Ok e stiamo in diretta Ciao a tutti benvenuti su Portal 2 Di nuovo Con due civette differenti questa volta Cioè non due civette Una civetta uguale a una civetta differente Esatto Perché da quanto Diciamo si è detto Siamo più prati che noi in questo gioco Piuttosto che Sara e Giorgia Piuttosto che Sara Così dicono Quindi stavolta Percorsi aggiuntivi Però stavolta c'è la difficoltà Perché con Sara l'avevo già fatti con Giulia Eppure con Rinaldo Quindi era la terza volta io che gioco questo gioco Praticamente intero E invece Con questi percorsi Non ce ne siamo mai accorti Né io né Giulia l'abbiamo mai fatto Quindi Sì c'è una difficoltà in più Cioè neanche sapevo esistesse Questa nuova parte No Quindi No Un attimo che abbasso l'audio Dalla live Così me lo seguo Ok E Io direte faccio rotta Andiamo Allora aspetta che abbasso anch'io Ok Andiamo Certo Certo in otto Dai Dobbiamo arrivare a 120 Regà Guarda cosa ho comprato MD Sto semblando tutte Sono molto felice Perché tu non sei su Telegram Quindi non potevi vederla MD vieni su Telegram Comunque non vorrei dire Ma non è partito il bot No No Partirò Dio è un secolo che non sentimo Gatos No Ok Non sono così Ok Grazie Bevo comunque Ok Sparano Beh mi sono strozzata Come ci sparano Va bene Subito Iniziamo subito Che Non bere Occhio alle torrette Pericolo di annegamento Andiamo Avrassi Insomma Giù Ferma E Dove cazzo sta? Aspetta Tu stai ferma Chi si muove da qua? Mo t'aiuto Dammi un attimo A differenza di Sara Non c'è il Molto aiuto Con Sara C'è il Ok adesso muori Per cazzo Ok Vi apro Il botticello Sì Sì Ora devi farlo tu a me Che mi devi uccidere le torrette Mi sa O me le devo uccidere da sola Che cazzo sta Ah ma lo devi passare No Mi devi passare cosa? Come cazzo te lo passo? Col portale Forse Da Tu te lo apro Un portale Che qua è tutto chiuso Sarà un modo Là sopra Là sopra Ah te lo devo lanciare Eh sì Mo lo devi lanciare Te lo lancio Mo lo devi lanciare Così te lo lancio Sì Però me dovevo mettere Ok Che cazzo è andata? Eh devi andare sopra Il coso Questo Dove? Sul No Ah ok 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 ci sono Vai Corro 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 No Ok No troppo lenta? No Non c'è entrato Come non c'è entrato? Beh No Non ho capito Aspetta è al centro Ok Adesso forse dovrebbe andare Sì Sì Come cazzo si prendeva? Eh Ok No vedi è partito Però non sta partendo Quello dei social Ma già Sara Quando fa queste cose Ti funziona solo a lei Ma non è che funziona solo Quando tiene l'aero streaming Eh aspetta Che c'è qualcosa Che non cosa Ok io l'ho posizionata Funziona solo quando ci sono io Funziona solo quando ci sei tu Io l'ho posizionato Però non capisco Che è cambiato Che hai fatto? No 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 Allora No sicuramente dobbiamo mettere un portale Un portale Che devo fare arrivare Scusi Di là il laser Eh sì Uh Buono Qui Eh mi devi alzare di nuovo Il Il Come si chiama? Il ponte Il ponte Ti prego non mi uccidere Lo stai friggendo? Grazie Cazzo Ok Mi sono ricordata dopo che potrei stare sul ponte Quando mi sono tolta Che hai fatto? Vai Sì Andiamo Salutare la telecamera Ciao Ciao Aspetta come cazzarola si fa? U E in alto No che hai fatto? U Di quadro Ah U Ok U di quadro Sì sì Q Ok Eccomi Ciao La lettera di acenta la doppia Andiamo Andiamo Qui Dove sei? Ma perché siamo sempre così separati? Allora Penso Che Mi devi lanciare quel cubo Che ci arriva a quel tubo? A quel cubo Aspetta c'è un bottone No non c'è un cazzo Come ci arrivo? Ah aspetta 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 No no ci sono Ci sono Ok Ok io sono dall'altro lato Eccomi E' utile Ah Ok Come me lo passi? E là sopra? Devi farlo da là Dalla sporgiata Guarda Qua Guarda Adesso Merda Merda E' una palla Merda Come te la lancio sta palla? Basta che ripremi il pulsante Ne esce un'altra Ah ecco Affan bene Ok Vai Vai palla Palla Mia Liscio No Vai Palla Buonasera Gabri Ciao Gabri Arrivo Come va? Tutto bene? Mia No Palla Vai Palla Mi ricorda palla a volo Palla Mia 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 Palla Mia 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 Ok Mia Notare com'è distrutta la roba Quindi Non so se hai notato la palla Quanto è distrutta 1,2,3 palla Palla Aspetta Io di qua non la posso avere la palla Perché qui c'ho il coso che mi distrugge le cose La palla sta andando La palla Ok No la palla Palla Dove cazzo va? Ok Sicuramente la dobbiamo far rimbalzare Mi dà questa sensazione Sì ma Come? Allora Ok ho capito Già No ti prego Non mi dire così È tipo dobbiamo fare Non la dovevo fare arrivare qua Ma la dovevo fare uscire di qua Sì Tipo dobbiamo fare tutti dei giochi Molto contori Vai rilancia la palla Vado Palla Si rilancia la da capo Palla Ah cazzo Cazzo Palla Palla Ok io devo andare qua Ok Dimmi che rimane di là e non ci devo arrivare io No Ovviamente casca No Ok Perfetto Giù Allora Palla Palla Vai Tutta questa live sarà una palla Palla Abbiamo detto in due ore lo finiamo giusto? Sì Abbiamo tempo di cazzeggiare giusto? Sì Palla Corri Corri Palla Ok Palla Palla Mia 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 La prendo Presa Dai Palla Io non so come arrivare laggiù però Apri un portale Aspetta Ah ok No Si chiama portal Ok Ci sono Giulia Giulia Mancata Giulia Ah ok Dicevo tu cazzo sei Giulia Andiamo Andiamo Ciao 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 Gabri Tu pure non sei sopra Telegram Guarda che mi sono comprata Quindi se mettete e bevi Io sto a posto Io pure Sono entrambi in dove Penso sia una live Di pallavolo Faccio una fatica a bere Che c'ho pure E mi faccio una Dregotomia Però Sì Almeno tu non me leggi Le barzellette Mentre stiamo Entrando all'ascensore No Madonna Se uno entra Avendato sulla live Pensa a giocare Da pallavolo Palla Mia Palla Porca troia Io ci stavo andando Con tutta la grazia Del mondo Ma secondo te Mi spiace Cosa ci passo tutto No Ok Oddio Ok Allora Quello Che ci attivi Con quello Non so Dobbiamo farla Arrivare Lassopra Il laser Zanzara Dobbiamo farla Arrivare Lì Il laser Ok Aspetta 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 Magari te lo metto Più dritto Questo celeste Scusa Alzalo Forse di qua È meglio No Di qua Non è meglio Rimettilo lassù Però qua dritto Mettilo qua dritto Ecco Allora Aspetta 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 Ok Ma che fa quindi Ok Ha liberato una porta Cazzo Ah aspetta Aspetta Allora Aspetta Ok tu rimani lì Eh però devo farti un portale No se me lo Ah sì me lo devi fare tu il portale Giusto No Ancora Ok Detto ciò Vai Io vado Però io poi da là non so che devo fare Domanda per Giulia Esiste 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 fort Sì che esiste fortnite Per nintendo switch Sì 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 Fortnite l'hanno fatto per tutto Per tutto Tutto Perché hai la nintendo switch Bene adesso Che hai fatto Dove sei? Una cazzata Top Allora perché qui c'è sta il muro Allora Perché Allora Però io come faccio qua? Dovresti fare una porta Tenere aperto Sia questo Che Che devi tenere aperto? Io qua c'ho il Il cazzetto Quello che Aspetta Tu ti riapri i portali Così No non te lo fa fare C'è una barriera Eh lo so Intanto tu rimetti un attimo Questo Aspetta un attimo No giù Metti i tuoi Ah i miei per fare Qua e qua E qua Sì Ok Ok Io adesso c'ho Questo Che Però che cazzo Ci facciamo Noi dobbiamo arrivare Al piano di sopra Lassù Eh sì però Prima dobbiamo sbloccare Altra roba Dobbiamo attivare Questo Qua Come lo attiviamo Questo qua Con laser Questa è un'ottima domanda Aspetta fammi vedere in giro Allora Ah ho capito Scusa eh Io ero a Fortnite Ma il pc Non mi lagga E non mi piace Ah non hai la Nintendo Switch Stai pensando Deve giocare a Fortnite Con la Con la Nintendo Switch Ok già E io devo bloccare quello Come cazzo Lo blocco Allora aspetta Giù Fammi andare su E poi te aprirò Il coso No Non ti posso aprire Il passaggio Oh no Fammi scendere Scusa Dalla Ma si viene Noi dobbiamo Tenere alto Quel Uii Scusa Non sto capendo Eeeh Eh no Non lo dobbiamo Tenere alto Per me dobbiamo Che ci dobbiamo No forse ci deve fare Da barriera Da qualche parte Ma barriera per cosa? Non lo so Però Perché l'unico modo Per falsare quel coso È mandandocelo Ah Può essere che dobbiamo Fare tipo Aia Aia Giulia Eh Giulia Dovrei scendare indietro Ok Io sono immobile Allora Forse dobbiamo mettere No non lo so No perché Qua non ci sono altri muri Mi fai andare a me Per vedere lassù Che cazzo c'è Eh Lassù dove? Eh Là Là dove stavi te prima Dove stavo io prima O su su? Oddio Merda Merda Aiuto Merda Merda Lì dove stavi Dove stavo prima Se mi sblocchi Che vado a vedere Direttamente io Ma dove c'ho il ponte? Sì Vai Ok Bloccami Sblocca Come era? Ah No questo è quello sbagliato No quello giusto Sblocca Allora Allora Ok Ok Fammi capire Budget 200-300 euro L'unico che entra Nel terzo switch Non mi vuoi spendere 300 euro Con la playstation 4 Cioè sinceramente la switch è bella perché è portatile Però ti conviene prendere una playstation 4 normale che non la paghi 600 euro La prendi usata Cioè Da persona che ama la switch Allora Cioè Prendi dalla playstation Allora Io l'ho comprata adesso la nintendo switch L'ho praticamente comprata a febbraio Quindi E' stata una scelta del Se ti piacciono i dog Cioè è più una scelta del Cosa useresti di più Una playstation o una nintendo switch Perché io mi sono fatta una lista dei giochi Che mi piacerebbe giocare della nintendo switch E mi sono resa conto che Diciamo Apprezzo di più i giochi della nintendo switch Rispetto a quelli della play Devi valutare anche che i giochi della nintendo Costano Costano La miseria Quindi Sì veramente Diciamo che E poi Cioè se sei una persona tipo me Che sta sempre in giro Per me la nintendo switch è la svolta Perché io sto perennemente in giro Se no ti fai la Come si chiama La cosa di steam Ah bella La steam deck La steam deck Eh te fai la steam deck Che è la stessa cosa Però comunque Sì Però è costambulato La version 4 La trovi veramente più bassa Di 600 euro Senza problemi La stavamo a vedere con Nicola Cazzo Aspetta C'è un modo Dai Non è quello che Non capisco Cioè che giusto Devo fare Con Da Cosa Che pure Scomoda La posizione Di quella Cosa Ah Perché ci fa Tipo da muro Quindi dovrebbe essere Un muro Da qualche parte È quello che stava Di pure io Però un muro Dove Aspetta Ma io questo Mi fai salire Aspetta 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 C'è un'idea Forse Non ce l'ho 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 Non è vero Mi fai salire così Vedo un secondo Dall'alto Che cosa c'è Sì C'è un cazzo Sì ma secondo me La PlayStation 4 usata La trovi a meno Di una Switch Sì È proprio È beccato la giornata Che non c'è Sassara Comunque Sì Allora A meno che Noi non dobbiamo fare Un muro Che va Scusa Fammi scendere Anche perché Come facciamo Ad aprire Quello che sto cercando di capire Scusa Ah aspetta No Non lo so Allora Però se tu fai da là Che fai là Che non c'è un modo Scusa E se tu proietti Sto muro Che succede Cioè Se tu proietti Il coso sul muro Il laser Su questo muro Succede qualcosa Neanche riesco In realtà Perché non è la testa giusta Aspetta Qua No Qua No Rimettimelo qua davanti A me Che succede Ah aspetta Ma non è che Forse Dobbiamo tenerlo Più alto È quello che stavo A pensare pure io Per modo che Stai in alto Ma come Come facciamo Appoggiarcelo sopra Più che altro Cioè Che palle È difficilissimo Questo Ma l'intento switch È un po' per bambini Vaffanculo Diglielo Da parte Diglielo Le civette Ti mandano a cagare Cioè Due civette su tre Ti mandano a cagare Non è per bambini Anche perché Dobbiamo pensare Quanta gente Ci fa Anche i soldi Con l'intento switch Mi sto rialzando La sedia Perché mi soccorta Che la mia visuale È tipo Mi vedete Bassissima Sì Ok Così Sono mezzo busto Ok E quindi Allora Uno due tre Bis Questo Non ci può essere utile In nessun modo No cazzo Questo Vedi che qua C'è un problema Che Che La cosa Giulia Giulia Ho capito Ah però Hai tolto la parete Eh Che dovevi fare Fuck Allora Lascio questo Aspetta Arrivato su Il coso Uno qui In modo che blocchi Questo E questo qui Vola per di qua Ah Ah No Ok Allora Aspetta Vado a me Eh Me mandi su Vado lì Io Sì Come hai capito Voglio sapere Poi Eh Non lo so Diamo la colpa Qualcosa Ok vai Io vado Palla Palla Dove Palla Siamo iniziati Labrador Praticare Cazzo Ci sarà troppo presto E' troppo felice Palla Di aver capito Sì Penso Di aver capito Poi magari Non ho capito Un cazzo C'è sto a fare La figura Di merda No Secondo me è così Sì Dai Sì Però c'è un ponte Sì 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 Di aver capito Ok Giù Metti i cosi Tuoi Dove È in modo che io posso In modo che io posso passare Senza che No Rimetti I cazzi Quelli là Oddio Aspetta C'è un problema di fondo Aspetta Aiuto Sì Niente Mi sono tipo Ok Bello Allora E Giuliani Sbloccami Giuliani Sbloccami Eh sì Un secondo Ho avuto un problema di fondo Sbloccami Ciao Ciao Paffa Ok Stavo mostrando agli altri La mia bellissima Un borrazzo Sono molto felice Ok Vai Ok Vediamo un po' se Se ho capito Quello che forse ho capito Ma non penso di aver capito Ok Giù Mettimi un portale Qui E un portale Qui Ok Ok Sì E adesso noi lanciamo Questo di qua E andiamo sull'ascensore Corri Non ho capito Abbiamo fatto la figura Di merda No Porca troia Che cura Brava Ma quanto cazzo Sono brava Ma che cazzo Cioè Chi ci pensava Io no Madonna No Non siamo morti Non ci provare Madonna mia Giù che bevi Madonna Regà Cioè C'è una capoccia Così Non ci sarei mai arrivata Io ci sarei stata Un'altra ora Almeno Grazie Tutto Comunque Io sto con la mia Fantastica copertina Con Le squabe Della sirena Questa camera La sicurezza Non so bene Cioè Sono la Maglietta Così Che gioia Le cuore Ok Allora Che ha detto Che è sta cosa Moriremo male Sì Ok Com'è Com'è sopra Quello De De Folieri Imperatore Ok Cazzo Lo stavo lanciando Ok Io Mi lancio Ok Mi serve un cubo Io non so dove lanciarmi Più che altro Come Mi serve un cubo Ok Io te lo posso passare Da qua il cubo Da Da là dove Qui c'è uno Spaziettino Ah No Aspetta Ok Fermo F-f-f-f-f-f Dove cazzo vai? Quanti cazzi tuoi? Ok Eh Ok E ora? Eh Devo arrivare lì Sop C'era l'acqua Grazie Grazie Sempre gentile Un amore profondo Dove cazzo Sto cercando di capire Dammi un attimo Quel bottone laggiù che cos'è? Quello là È quello che sto cercando di andare a premere Ma non ho capito come, dove, perché, quando Come arrivarci Allora no Magari Ok Aia Aia Niente Ma siamo partiti dallo stesso punto? Allora Ah ok Vedi posso venire anch'io là da te quindi Perfetto Però vedi che qua c'è un buco Ok Ops Ops Ok Allora Ah c'è anche lassù Sicuramente Ah aspetta Provo andare io Sì sì Io rimango qua A dare le capossate Aia Perché serve D'aprire quel coso Per aprire quel coso Bisogna premere quel bottone Per premere quel bottone Bisogna andare lì Cazzo ci arrivo Ok Aspetta Allora Quindi io vado qui Ah mi devo lanciare Palesissimo Mi devo lanciare Però dove mi devo lanciare? Ah cazzo Dove si sta lanciando? Qui Ciao Che vado Portale lì Lì Però come cazzo Lo apriamo il portale lì? Ops Scaduto esatto Allora Come lo apriamo il portale lì? Ma lì c'è qualcos'altro Qua Fermi C'è qualcos'altro lì? Aspetta Lì c'ero già andata prima Però non Qua dentro? Non ho visto niente Di interessante All'umanità Mi penso che tu lo trovi Qualcosa interessante Per l'umanità Sì Io l'ho trovato Forse Forse Ah Aspetta Ok Posso vedere quello che fai Ma faccio prima con la telecamera Con la live Se premi i tab puoi vedere quello che faccio Merda Mi sono tipo incastrata Ah no Aspetta Ok 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 Mi sono discastrata Allora Ok Famo così No Ah Dio non lo so Aspetta Però questa cosa dovrà servire Ti giuro ho capito Però non ho capito Ho capito ma non ho capito Allora Che sta a cercare Quì No Ok Ah Hai capito Te l'apro dall'altro lato Poi al portale Mi devi aprire te Mi devi aprire te lì Ok Cioè tu me lo devi mettere Ma poi dovete lo Qui E poi me lo devi mettere qui Eh come Lì non riesco a metterlo il portale Se riuscivo a metterlo lì Avevamo risorto Già metterlo il problema No lo devi fare da Da qua giù Laggiù No Da là dentro No Qui Qua lo devi mettere Cioè tu devi Devi fare un portale qua Ecco Tu devi andare qui Vedi Qui E mettere il portale Qui Ok Poi Vai Qui E metti il portale Qui Ok No Come no Però Però Devi cercare di mettere i portali In quei due cubi Ok Ok Ho sbagliato Hai fatto No Aspetta Eh Come cazzo Faccio Ah Ti faccio No Allora Brava Sì Ora Ora Manca All'altro Lato No Eh infatti Come lo metto Dall'altro lato Come ci arrivo Scusa C'ho C'ho qualche neurone Che Eh Da lì Da laggiù Esatto Eh sì E devi fare qua Eh sì Però se lo faccio qua Ok All'altro lato Qui E lo fai qui Devi venire dove sta Dove sta la tua porta Giulia Se io il portale L'ho messo qui Come cazzo Arrivo Di là Giulia che spiega Già dove mettere Portare Ma lei Non può scendere E salire E scendere E salire Esatto Grazie Hai capito Dove è il problema Di fondo E non lo so Aspetta 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 Giulia Torna giù Tu Vieni giù Eh beh io Se bacco giù Vai via da lì Vai via da lì E dopo ti faccio Riandare lì Sì Aprimi un portale Qui E un portale lì Ok E io di là Ho aperto C'è l'esterno In qua Devo aprire il blu Ecco fatto Vai Vai Evviva la mia Collaboration Ho capito Sì Io comunque Devo togliere Sta cannuccia Perché mi sto per fare Una tragodomia Ok Devo fare Via Ok 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 se assoprami Quello che succede Ok Allora io arrivato Di là Mi è sparito il bottone Bene Ah ok Problema in meno Allora Io ne apri Uno qui E uno qui Vai Brava E ora E io lanciare questo coso E vediamo dove arriva Forse lo devo prendere Forse sì Forse Forse Come cazzo ci arrivo lì Da te Se va laggiù Eh io però L'unico portale Che posso sparare lì È lì Quindi Come cazzo Come cazzo Devi Ah giù Devi saltare Ah Oh Gesù mio Ok Aspetta Ok 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 al mio tre Eh Non hai detto tre Non hai detto tre No è so Non volevo partire Allora Uno Al mio tre Uno Eh no ma Sono andata avanti Non capivo quanto ero avanti Uno Due E tu lancialo Vai Uno Due No non ce l'ho fatta di poco Vai Uno Due E Tre No Dove cazzo stava No troppo indietro Uno Due Comunque uno Tre No senta Non ce l'ho fatta Ok Allora Uno No aspetta Uno Aspetta Sto cazzo non riesco a capire Ok Allora Uno Due Tre Liscio Scusa ho lisciato io Eh ho lisciato Ok Uno Aspetta Niente Vado troppo vicina Allora Ok Uno Due Troppo letto Stavolta sei partita all'uno Io che ne so Uno Due Tre Oh Preso Mettilo là Tu cazzo Dai Questa parte facile Ok Questa qui è da fare la clip Come cazzo si fanno le clip Uno Tre Perché uno E sei partita Non senti male Ricordiamoci a sto pezzo Sì Questa da dura Durissima Madonna mia Disegno il minutaggio Sovra il blocco degli appunti Ah tanto ormai Perché non so capace a fare le clip E Nicola mi ha perso la penna Bene Perfetto Mannaccia L'unica penna che mi era rimasta Sono senza penne Più o meno a mezz'ora Dai Comunque non è male Dai Così che si vede tutto Che cazzo era? Che ha fatto? Che ha tremato tutto? Vabbè Circa trenta minuti Il caso che salta No ti prego Giulia Sara sarebbe molto felice Di questa cosa Vado rega Sto tutta attappata C'ho mal di gola Non Chioratemi In favore Se sentite i rumoracci Lo so Perdonatemi Giulia Che stai facendo? Non lo so Stai facendo cose Lancia il pacco L'altro lo dirà a volo Ma perché Se non vi posso rimbalzare Sul rumore così No No La risposta è no Per questo esibito Stai lavorando con il motore Tutta acqua Ah Già Ho capito Ho capito Ho capito Ah Aspetta Ho un problema fisico Ok Ok tu metti il Questo Esatto E poi facciamo così Wee Wee Ah Fai prima di Ricoprire C'è la puttana Allora Comunque Non mi era per niente Mancata Glados Beh niente Guarda Dopo questo livello Potete lavorare Lo consegni su Amazon Una lancia il pacco L'altra prende al volo Guarda praticamente Vado io Vado io Vado io Quando hai fatto Eh sì Vai Vado 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 Wee Che cazzo Che clip è Io devo capire Come si fanno le clip Perché non posso vivere così Senza per fare le clip Wee Wee Ricominciamo Senti vai te va Vai prima te Vado prima io Cos'è almeno Qualsiasi cosa Se caschi Non va via tutto Esatto Non va via tutto Laggiù poi Eh Vai Evviva Ok Quindi ce la posso fare No Sì Ce la puoi fare Dai Vai Guarda sempre dritto Non ti confondi Ecco Perfetto Togli sti cosi Ah E adesso Aspetta E adesso Aspetta Cioè sarà un modo Ok No Ah 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 va fa culo Già Dobbiamo andare avanti Saltando Ah Io sono passata col portale Ah ok Io sono saltata con tutta l'allegria del mondo Io penso con i portali Eh Eh La pubblicità è perché Col fatto che Siamo partner Dobbiamo mettere Quindi Twitch Ci costringe Però se c'è Amazon Prime È gratuito Il Allora questo è quello che va veloce Aspetta un attimo Che sto appena Meso un attimo distratta Ok Dobbiamo arrivare lì Come ci arriviamo lì Qui c'è acido Lì c'è acido Qua c'è sta batteria Eh Ok Allora Allora due cammelli Allora Ok No Lì Devo metterlo più dritto Quello In qualche modo Aspetta Ma perché va per storto Cioè Non capisco sta cosa Allora Aspetta Mettimelo Eh Eh Così No non lo so Ah Oh Allora Giulia Me ne apri Mettilo lì Qui Mettilo qua Io lì che ho messo Viola No sotto Sotto Metti il viola sotto Ok No Metti qua E qua Brava Ok Poi Così Ok Però devo metterci il coso Veloce Sicuramente Perché così Ma noi come andiamo Dall'altro lato Saltiamo da qualche parte Vabbè Sto pensando Questo sicuramente Deve andare qua Ecco Vedi Così Ok Però ora Dobbiamo capire Dove andare Vabbè Vabbè Sopravvive Grazie 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 Male Allora Allora Sicuramente C'è qualcosa Qua Non scherzavo Non dicevo Queste Erano le avanzate Vabbè Ah Forse Ok Ma perché Le cose facili No E le cose difficili Sì Ok Adesso Quello che fa Ah Ah Sì Però devo prendere il cubo E come cazzo Prende il cubo Mo Ah Aspetta Aspetta Mettilo più su Mettilo più su te Ah no Non posso Aspetta Se sto mandando qualcosa Dovrebbe rimbalzare Quasi Ero quasi Sei morta Sì Ero quasi Lo devo andare di qua No giù Qua Più basso Qua Ok Adesso te Fai il coso rimbalzino Ah qua Eccolo Qui Forse devi metterlo Ah sì Probabilmente sì Ok E mettilo qua E forse devi prenderla In corsa Quindi devi Mettere questo Con questo Ok Sì però il coso rimbalzino Non l'ha messo tanto Adesso Devi far mettere il coso rimbalzino Adesso metterlo in balzino Esatto Eh perfetto Ora vai alla base Dove sono io Ok Ok vai Cos'è successo Non lo so Sono andata sparata Per qualche ragione Aspetta Vado io No aspetta Aspetta Che tu poi dopo C'hai il coso Vai Non sprechiamo il Che penso Che tu mi stai messo Abbastanza lì Che vedi Alla fine è tipo Devo provare a saltare Forse No No Perché alla fine Ci sta quella parte Arancione Che mi fa riprendere velocità Capito Non mi fa saltare E se lo fai un po' più a destra Qua Un po' più a bordo possibile Il portale Oh si è buggato E se lo fai Riprova a togliere Rimette giù Cioè devo togliere tutto Lo ripacciamo da capo Si ritogli questo A questo punto vado Vado Prova Qui Qui Vaffanculo Giulia Che cazzo Mettilo là sotto Il cubo Dove lo dovevo mettere È sul bottone Dove sta il bottone Eh ma lì non ci sta Eh come cazzo ci arrivo lì Aspetta Aspettami No Pensavo Ok salto Vado eh Vado eh Prova Salta Ok Ok brava No Madonna Aspetta Aspetta Ok Dai Dai là Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto prima Ok Adesso Aspetta te metto bene il Il coso Grazie Però magari così vieni bene Vieni Ok 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 E ora praticamente dobbiamo fare quello che abbiamo fatto prima Quindi io metto il Il coso così E dobbiamo metterci il cosino che rimbalza Quindi tu metti un portale qui e un portale qui Uno qui e uno qui E uno qui E uno qui E uno qui Scusa qua non rimbalza e basta hai fatto Ah rimbalza No No Sono morta Aspetta arrivo Immaginavo Allora io quindi metto questo qua Questo là E va veloce Ah Però Ah ok Lo sa quasi tutto Però lo fa al contrario Sto bene Quello come sta Non sto ben capendo Non l'avrò qua E come ci arriviamo là Si lanciamo in qualche modo Ah aspetta Aspetta No 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 E se lo metti di lato Vedi Di lato Noi entriamo da quel lato Non lo so No Prova a rimettere Ok Non penso sia la soluzione giusta Ma se funziona Ok Funziona Non funziona Ok Però abbiamo scoperto che Saltando così a cazzo di cane Vicino No Perché noi lì prima ci arrivavamo Quindi A meno che Non lo favo così No Secondo me Aspetta No Secondo me è così Fai tutto Qua tutto forte E poi dobbiamo rimbalzare sopra Qui Ah Ah Tu dici proprio Ok ho capito Allora Ho questo Ma proprio carico A pallettoni Ok Adesso tipo Così Ok Prova Iiii Esatto Perfetto Quasi Ok Ce l'abbiamo fatta Dai Quella Cos'è Quella roba Cosa Cosa Quella roba Cos'è Sono quelle cose Come sono Non riesca a mettere a fuoco E non c'è Di avvicinarti col boss Ho fatto Sto soffocando Di capi che è No Non lo so Vabbè Non ho capito Glados che fa cose Io devo andare al volo A prendere lo spray per il naso Perché sto soffocando Quindi So soffocando Cioè Sono letteralmente Soffocando Cos'è Quindi Ci ha tipo Lanciato di sotto Che palle Non mi piace Quando scendiamo Mi piace più Quando saliamo Madonna Raga Quanto mi piaceva Portal Cioè Io ho anche Funko Pop Siamo 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 di sotto Ci ha buttato di sotto Perché la smonta La tizia La cosa che smonta Non funziona Che bello Queste sono tutte Parti nostre Di tutte le altre volte Che sono smontate Vado Sì Ah 50 mila No Vado 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 Quindi se moriamo Moriamo e basta Non ho capito Un cazzo Non ho capito Un cazzo Praticamente Non siamo 100 mila Anni del futuro Ma siamo solo Una settimana Nel futuro E lei nei guai Serve una mano nostra Sì Ma di quanto Siamo Una settimana Nel futuro Una settimana Nel futuro Rispetto a quando Abbiamo aperto Le porte Del coso Siamo noi Siamo noi Siamo noi Ma che cazzo siamo E se io non voglio Voglio farmi il cazzo Che mi pare Non so se è una cosa Fattibile No Lados Purtroppo Quali sono gli interruttori Siamo noi Ah no Eccolo Ah Ok Dobbiamo premerla Assieme Allora Aspetta Aspetta Fidati di me Aspetta mi sono bloccata Ok Vai Fidati di me Un secondo Dove cazzo era Quello C'era Un pulsante Per mettere Il timer Vabbè vai Uno Sette Uno Sette Pippo Via Aspetta Non è più facile Perché uno Sette Pippo Via Escout Che devo fare Ma è gente che urla Erano persone che urlavano Dove Di sottofondo Va bene Giulia Ah Eccoti Cinque Ciao Che è quello grigio È quello per Friacquotali Ah Questo mi piace un sacco Perché ci possiamo fare Il cazzo che ci pare Teoricamente Da solo spostarlo Poco per volta Madonna rega È veramente Non riesco a premere Ah Ok Ok Adesso Uno può fare così Non ci sto Che vedo più Un cazzo La cosa Codito è più Quello per creare portali In realtà Io Però va bene Ah ma anche Là sotto c'è Già Ovunque Esatto Dove dobbiamo andare Non lo so Tu Continua a creare portali Tu continua a pensare Quei portali Giulia Non stai pensando con i portali Giulia Ti sento che non stai pensando con i portali Di pensarci più intensamente con i portali Noi dove dobbiamo arrivare Giusto per capire Non ne ho idea Magari se andiamo in avanscoperta Prima di cominciare a spostare le cose Letteralmente Ok Ok qui c'è un cubo Quindi penso Quindi sono Allora Lì ci sono delle torrette Sicuramente Dobbiamo uscire Quelle torrette Oh che figo Tu non hai il dubbio Sporca tutto Sì sì Tu vai Io mi sto tirando una fracca Uii Tu forta Tu brava Tu forta Io Intanto Io vado avanti Ok Questo mi piace Qui è molto Perfetto Grazie Giulia Giulia si sta divertendo un casino Nel frattempo mi sta aiutando un sacco Allora Dobbiamo cercare di farlo arrivare lì Ok Secondo me No 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 Metti qualcosa te qua No qua non posso Ah che palle Allora Ah Capito dove dobbiamo farla arrivare Aspetta Eh tipo Aspetta Sì Più o meno Dobbiamo farla arrivare qua per me E poi portarlo laggiù Ok Però come Piano piano andando avanti Come prima Ah aspetta Come formichine Ok Qua Mettilo qua Sì Vediamo un po' dove va a finire Sara si sta Per fortuna non l'abbiamo fatto Volemo Io mando un audio Non lo finire con due ore No Allora No 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 Allora Tu ti lanci Se tu ti lanci Ah forse è qua Ecco No Più qua Ecco Andiamo qua Ok Ecco Ok Ok No Ok Poi Qua Oh wow Qua Io non so Cioè Adesso si deve tipo lanciare laggiù Quindi Laggiù Ma in cazzo ci arriviamo laggiù Secondo Dio Secondo Dio non lo so Secondo Portal In qualche modo ci arriveremo Però qua c'è questo coso Non c'è un tasto magari che dobbiamo premere Qui c'è un Cazzo Che è questo rumore dei ricotteri L'hai sentito? Io voglio sapere cosa c'è alla fine Io voglio sapere la storia La Emma però Cioè voglio sapere che cazzo c'è sta a fa Paglados Questa è la Beh Giù Aspetta Stupida come me Io sto andando La scuola Eh infatti Perché la scala fa tutto intorno Ok Io sono arrivata là sopra Mi sa No Vero No Aspetta aspetta Ho capito dove sei arrivata però Perché lì non me lo fa creare? Ecco Ecco lì dove sono io Ok Vai Vai Lì Qui Devi farlo qua sopra Vai Ce la puoi fare Ecco brava Sì Fallo in un punto dove puoi passare No Fallo qua tipo Ok Ok Eh Ok Io sto andando Ok da qua non c'è un cazzo Però 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 Aspetta Sposta Scusa Ok Però da qua posso lanciarlo Vedi? Ok Che posso ancora lanciarlo Che posso ancora lanciarlo E a un certo punto Dove cazzo arriveranno Lo so però Però aspetta Però aspetta Fallo qua E qua E qua No Aspetta Ecco Ok Ok Quindi adesso Dall'altro lato della colonna Ti puoi andare Eh ci sto provando Piano piano Dove cazzo lo sto lanciando Per terra Ok Aspetta Riapro Ok Adesso si lancerà Ok Bravo 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 Così Bravo Lanciati Bravo Bravo Ci siamo arrivati Dalle torrette Quasi 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 Mi sono arrivati Sì ci siamo Ci sono qua Come cazzo ho fatto Non lo so Sappilo Ok Ok Adesso Quasi Adesso tempesterò Queste torrette Di questo liquido strano Che noi Non Preferiamo Evitare Di sapere Quanto sia Eh Le torrette Però Non Le torrette Le devo andare a ammazzare Se mi dai un attimo Le uccido io Mi dai un attimo Ma se tipo Le butti di sotto Vado e le uccido No vado e le uccido È quello che volevo fare Cazzo Attenta Sono morte Ok Vado Allora Devo andare a prendere il cubo Ok Io 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 non mi muovo Se vuoi Rimango un po' No Dove stava il cubo Scusami Cubo Qua Eh 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 Ok Ok Meglio Ecco Vai Vado Vengo da te Quindi Abbiamo fatto No Aspetta Sì Abbiamo fatto Vieni da me Andiamo Saluta Saluta Ciao Kratos Sì stavo a faccia Con la mano Sono un genio Non è quello che sembra Sì infatti Sì 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 Ma non è che questo va in parallelo Con la storia Sai che non lo so Potrebbe andare in parallelo Cioè lei adesso sta in giro Secondo me La fine Tra quello che è successo tra portal 1 E portal 2 Perché lei sul portal 2 Portal 2 inizia Che lei si risveglia E noi praticamente l'abbiamo risvegliata All'inizio dei primi 8 capitoli Ok E adesso lei l'ha ammazzati tutti Tranne lei Quindi adesso magari lei sta cercando di fare L'overdrive con Wheatley Giusto Penso Scusa stavo facendo teorie Non mi mettere fretta Complimenti Ma premete tu quel bottone Sì tu devi prendere la cosa che sarà per cascare Dove casca Lì Lì dove Qui Lì Ok Liscio Ok Vai Liscio Vai Mettila da qualche parte Non so dove Forse è lassù di fare Ah lassù Dobbiamo farla arrivare Lì 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 Come cazzo Devi rimbalzare Ok Oui E che fa Dovresti salire sul ponte Aspetta Forse dobbiamo saltare Ah ok Mi sa che devo saltare anch'io con te A sto punto si Ah che coglioni Ok 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 Ci sono Non si vede Abbiamo fatto un'altra AI E si è attivata contro l'altro No penso Perché non so se L'hai giocato portal 2 Ok Allora Allora aspetta Prima arriviamo sul ponte Poi parliamo Dove sei? Già Fermo Saltando Ok Eh ma il ponte si attiva solo se io uso questo Giù Eh insieme dobbiamo saltare Ah ok pronta 1 2 3 Ok Perfetto Allora intanto tu parla Mentre io capisco che bisogna fare in questa vita No nel senso tu l'hai visto portal L'hai visto giocare portal 2 O l'hai giocato Ross Ma che cazzo dobbiamo fare qua Eh perché se noi andavamo sali tutte e due Ah aspetta Aspetta Perché teoricamente non mi ero accorta che potevo farlo da solo C'è qualcosa qua Vedi Qua una stanza c'è Vedi Devi togliere il coso Sì Valla a levare Cioè tienilo e levati un secondo Tanto poi risali te Ok perfetto Ok No liscio Ok vai vieni Vai vieni Ok Penso che noi dobbiamo andare Vado prima io? Cioè vai te vai te Eh vai te Vado io Bruciato il mio portello Eh ma no Robert Portal 2 che hai visto con Sara e Giorgia non è la storia di portal 2 E c'è tipo un mondo intero È lunghissimo portal 2 Dove devo andare? Eh stavo ragionando ma ho ragionato male Perché lì posso aprire un portale Mi dire che sei morta Ok No lì ho aperto un portale Ok E teoricamente dovrei aprire un altro di qua Però Comunque Non sa come Io può Ah aspetta Joe C'è qualcosa qua Lì Devo andare io Lì non vedo Vai tu Ok c'è un bottone Premi il bottone Premi il bottone Premi il bottone Vado Sì Non è vero È il bottone di prima Mannaggia Ci ho pensato mentre cascavi Allora Facciamo così Settimana Appena finisco cult Porto tutto portal 1 e 2 Madonna Mi è tipo il mondo intero Vabbè Vabbè portal 1 e nottore Vabbè no portal 1 E portal 2 Portal 2 Sì C'è un problema Siamo bloccate Andiamo a morire No non c'è bisogno Che hai fatto Aspetta Ah ripremi il bottone Vai Sì Ho pensato dopo Vado eh Ah sì brava Giulia No era questo qua Che dovevamo fare Vai Vado Saltiamo assieme Pronta Prontissima Aspetta Ok pronta 1 Aspetta Aspetta Vai 1 No Vai nel senso Vai con la conta Ok Fai la conta Te va 1 2 3 Ok aspetta No Che cazzo fai Mi sono girata Mi sono girata 1 Aspetta Arrivo Arrivo Fammi scendere Fammi scendere Ok vai Allora Vai Aspetta Conta 1 2 3 Aspetta Lo lascio giù Ok ci sono Andiamo Come hai fatto? Stiamo Ma che cazzo Tu fatti i cazzi tuoi Plot twist Mi è venuto Un brividino dietro La schiena Dobbiamo ucciderla Dobbiamo ucciderla Secondo me parla di Shell Sicuramente parla di lei Sicuramente Shell Per me è proprio una storia In parallelo Cioè lei adesso sta in giro A fare i livelli Giorgia usa i trick Giorgia in realtà C'aveva la Esulta No non è vero Rega Giorgio Sto guardare la live Grazie Grazie How tall are you test subject 4 9 I was on a whip They stack human waste That doesn't make any sense Human waste is stack A median height of 7 feet 5 inches And I am aware of it Test subject I've been told that your mother That's just disgusting Do the training No Sua madre Guarda Giulia Mi stai facendo cadere Giulia Adesso stanno le merde Ok Allora Io penso Cosa ho attivato? Ho attivato qualcosa Ma non ho attivato Non so cosa Ciao stronzette Ciao stronzette Allora Lei c'è una palla Quindi sicuramente Va attivato Ok Ok Fai un portale Qui Giulia Sono incastrata Che vuol dire Che sei incastrata? Dove sei Giulia Sono incastrata? Sono letteralmente incastrata Giulia Non è incastrata Dove sei incastrata? Giulia Giulia Sono incastrata Dove sei Dove sei incastrata? Ah Ok Mi ha preso un colpo Allora Aspetta Fai Il portale Qui sotto Immagino No Aiuto Giulia 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 Aiuto Tu li aiutami Tu li aiutami Tu li aiutami Ok 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 Aiutami Ok grazie Ok ho capito Quindi tu devi andare in giro con sto cazzo di coso E io in base al questo Va avanti indietro Quindi tu puoi andare dove ti pare Io devo portarti avanti indietro Tipo adesso Che cazzo stai andando? Non lo so Ricerca Ricerca Come bersaglio perso? Sta parlando la cosa La torretta Eh sto pensando Eh sto pensando però Ho fatto un loop Ho capito Ho capito Ho capito Ok dove devi andare? Io non l'ho capito Tu aspettami Eh ma così ti prendono No aprimi Aprimi questo e aprimi Ok E ora? Ti prendono Mi prendono Ti prendono Mi prendono Allora Dobbiamo capire Dobbiamo capire come portare il laser E se ci entri di poco 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 Ah sper Forse No Sì Allora Giù 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 Aspettami Allora Riaprime Lì E Qui E fredati di me No è quello Questo Mi devi aprire questo Fredati di me No Non dovevi Andarci Aprimeli Ok No Non hai capito Allora Aprimi tu questo E E questo Ok Sì E io farò una cosa pazzissima Cazza Cazzo C'ero riuscita Se l'ho sparato male Pronto Allora Davvero Mi rischiate la così male Sì Sono livelli difficili alla fine Quindi potrebbe anche essere Ma ti prendono anche lassù Ah Aspetta Devi puntare Sai dove Aspetta Qua ci dovrebbe essere un'altra torreta Aspetta Chi è Sel Sel è la protagonista di Portal Qua Aspetta Ah no 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 Te cazzà Stronza Allora Se noti qui c'è un'altra porta Bisogna capire Come arrivarci Vedi qua c'è un'altra porta Però senti c'è la torretta Cazzo è vero No quella Non ci avevo pensato Quella sicuramente Dobbiamo portarcela A casca Sta a cascata Non è cascata Allora Come facciamo a far ricadere qualcosa in testa Aspetta Forse c'è qualcosa da solo Come cazzo ci sono arrivata Vado Come sei arrivata là Ferma tu Ferma lì che hai fatto bene quel portale Sì sì Ho fatto benissimo E Vai Come ci arriviamo adesso Eh non mi ricordo Come cazzo ci sei arrivata Aspetta Tu riavrimi il rosso qui poi Ah Aspetta Sì Laser Aspetta Sì Vai Ok Ok Rimettimi il portale Dove ce l'avevi Dove l'avevi messo figo No di fa Ah Aspetta Aspetta E vado a premere il bottone Eh aspetta Non l'ho fatto Ferma Ah Cazzo Ferma Ok Dove cazzo sei Vai rientra Ok Già sono dentro Non me sono mai andata Ok Vai Dove cazzo sei Di andare al bottone Dall'altra parte Lanciati Grazie Grazie Aspetta Come l'hai preso Come lo prendiamo qualcosa Come lo prendi Ah Ho capito Mi devi rimandare tu poi Qui Lo devi mettere te Allora Vai qui sopra Vai qua No Ti dici Devo mandare io Quindi tu rimani lì Ok Io ti mando qui E qui Ok Vai Io c'ho il laser Io c'ho il laser Anche Non so se è utile Ok Io Giulia 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 Invertimi Giulia Invertimi Giulia No non posso Aspetta Allora Dobbiamo capirla Perché sicuramente Te devi metterti Il portale E là E io Perché io devo trovare Il modo di mandarti indietro Se no fammi Se no fai te queste cose Io faccio avanti indietro Ok Io non ho capito Però va bene Allora Allora ti spiego Ti spiego Allora Noi dobbiamo fare in modo Che quando Uno scende da qua Ok Da qua Deve prendere il cosino qua Ok Però al tempo stesso Deve risalire su Ok Capito Capito Hai compreso Sì Io penso al laser E tu pensi ai portali Ok Più o meno Oddio Aspetta Però questo potrebbe essere Una tattica Questa cosa del laser così Ok Adesso Aia Mi devi fare un portale Lì Lì Devo entrare Devo entrare lì Dove sta lassù Fammi fare Fammi un portale No Incontrare qui Ah Vabbè E' uguale Fammelo qua Va Non me vado a camminare Pigra anche su portal Ok Ok Allora Adesso Adesso Io esco Tu devi riuscire Eh Fammi Fammi andare su Fammi andare su Eh Devi togliere il laser Togli il laser Ok Ok Perfetto No Non ci arrivo Qua Allora Giù Eh Tu metti Il portale tuo Qui E il portale tuo E non posso Non posso Vedi Posso comandare io Se è la Vedi il laser Posso comandare Se Se serve Vedi Adesso vado su E mi porti lì Esatto Io non ho capito Come pensi Di comandare il laser Infatti Aiuto Ah Ci deve essere un modo Cazzo Dammi un secondo Fammi fare un attimo Un brainstorming Ah Ma tu guarda C'è un'altra cosa qui Ciao Eh lo so L'avevo vista da prima Questa qui Quindi questo Se va su No Non lo so Dove cazzo vai Lassù Boh Volare Sapete così Non può andare Aia Avete rotto un po' i coglioni Dovrete E se non è come E' rimasta Incastrata lì All'inizio Allora sicuramente Ci devo pensare io Adesso Scusami Eh Ma se io Mi lancio No Dove Qui Tu mi apri Un portale Qui E uno Qui E uno qui Ok E io me ne apro Uno qui E uno qui Ok Vai Io devo riuscire a lanciarmi Dall'altro lato Dentro al Cuoco Me lo fai Un pochettino più In qua Rosso Ok Ok E adesso tu controlli i laser Ok Dimmi quando devo farti risalire Fammi risalire Fammi risalire Fammi risalire Fammi risalire Liscio Fammi riscende Fammi scendere Ok Sali 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 Scendi 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 Sali Maffanculo, scendi Sali, sali, sali No Ok, comunque sì Questa qui è la cosa giusta, dobbiamo solo capire Guarda a sinistra, splassa, ok Allora, quindi Quindi Uno qua, me ne devi aprire Uno là sopra Io ne apro, uno qua e uno Qua E mi rilancio per riduciare No, aspetta Ok, vai Ok Aspetta Ok, aspetta, aspetta Aspetta, vai Ok, vai Su, su, su Ah, fanno giù Ok Su Preso Ok, adesso con questo facciamo le torrette Eh, giù, aiuto Mi devo togliere le portate Mi sono, mi sono pallata Ok Aiuto Ok, vai Ok Uffo Ok Adesso, ecco Così prova a comandare laggiù Vai laggiù No, devi andare alle torrette Devi far pull alle torrette Le posso fare da qua Ah, sì, le puoi fare da là Ok Ok Ok, perfetto Ok Stop Oh Ok Allora Già Mi devi prendere la palla Mi devi proiettare il coso Ah no, aspetta Aia Devi andare a prendere la palla Eh, ma mi devi proiettare il Quello che va Che trasporta Questo Esatto Aspetta Addio No, il cubo Il cubo Il cubo Vabbè, il cubo penso Ci serviva solo a quello, eh No, ci serviva pure per proiettare Dove? Questo Qua Oh, cazzo No Cazzo Stavo in mezzo Tieni Vai Vai laggiù Ok Uno Ok, dimmi Dimmi Su Ok, vai giù Ok Giù, scusa Su 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 Fanculo Giù 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 Su Si, ti vedo Ok Rimani su, eh Vai Dove cazzo stai andando lì? Ok, vieni Esci Ok, perfetto Aspetta che Ok Il cubo lo metto qui al sicuro Allora, adesso dobbiamo risolvere un altro problema Ma dobbiamo fare un qualcosa che proietta No, era giusto come stavamo facendo prima Solo che c'è il nato il cubo in mezzo Ok, vai Vai No, non io E mo come facciamo ad arrivare lassù? E mo ti ci faccio riandare Prendi la palla Aspetta adesso No Aia Aspetta Vabbè, io posso entrare da qua No Ok Mi devi proiettare Ma non c'ho come Eh, perché dovevi rimettere i tuoi portali Aspetta Quindi devi riandare di qua Aspetta Ok 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 Ci sono Ci sono già Mandale indietro Eh, se lo mando indietro ti blocco No Vai indietro E come facciamo? Non c'ho come fare Mi sento molto tipo help Non è vero Ho detto una cazzata Ma c'abbiamo il cubo Eh, è fatto Ok Allora, aspetta Non c'abbiamo il cubo Ok Vai Ah, non posso portarlo Però come faccio a portarmi A me? Ah, Peppa A me Brava Vai Ho detto Voi c'è il cubo Valla a prendere Valla a prendere Perché sennò poi si fa Dov'è? Laggiù Dove si fa? E si fa comunque Ah, Dio No, si è distrutto Cazzo Ma si fa comunque Come lo stiamo a non farla? Eccolo Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, eh Aspetta, eh Aspetta, eh Aspetta Ah, ok, ho capito Hai capito? Devi prenderlo lì Eh, cioè Sì Quando sorpassa Ah, aspetta Idea migliore Aspetta, eh Passo Eh, va Vai Ok Evviva Ok, ora Quindi ora Questo è fatto Noi dobbiamo arrivare Dove? Ah, dobbiamo andare Il laser qui Aia Ok E quello va su però E la palla qui No Ovviva Quindi ci servono più Siamo due deficienti Siamo due coglioni Proprio Sì Vai Aspetta Aspetta No Dimmi quando Sì Dimmi quando 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 Aspetta No Aspetta Ok, vai Vai Non c'è Come è Segui la palla Scusa Eh, non ce l'arrivo Ma Porco Attraversa la nebbia Perché devo attraversare la nebbia Giulia devi attraversare tu Non devo Manda questa cazzo di palla Eh, aspetta Mi ha distratto Robert Allora Ok, vai Devi Devi mandare il portale È vero Perché ho sorpassato Fanculo Ok, vai Vai Tutta tua la palla Eh Se non mi ricasca dall'altro lato Volentieri Ok Ce l'avevo fatta? Sì È molto più facile di quanto pensassimo Ma qua si forma un'altra palla Comunque No 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 Però facciamo così Affan bene Dopo ci ho pensato Eh Affan bene Pure te non ci hai pensato Basta No Io non ci penso mai Tanto quella intelligente Della Sono io quella intelligente Mi fa piacere Di questa coppia Sì Allora Vai In generale Non sono io quella intelligente Però va bene Quindi adesso Se abbiamo undercure Eh no Quello facciamo giovedì Allora Sali lì? Aspetta mi sono incastrata Cazzo Sotto mi sono incastrata Sali lì? Sì Sali sopra il coso La palla sta per andare nel coso La palla sta per andare nel coso Ok Non è un problema Ok C'avevo l'ansia Ok Quindi Questo adesso va qui Vediamo un po' Se tu mi puoi aprire qualcosa Lassù No Da morireci Allora posso abbassare questo Affanculo Qua dice che dobbiamo essere in due E rimando tu Qua dice che dobbiamo essere in due Tu lì non puoi fare niente Un cazzo Allora Come devo fare? Dobbiamo essere poi in due Allora Dovremmo fare e decidere noi Ah No Aspetta Aspetta A parte devo fare una pausa pipite Quella è epica Un secondo Eh Il cervello è collegato direttamente con la vescica Che vedevo Dimmi Sto letteralmente facendo Non c'è niente Non c'è stata una cempa di niente Tu ragiona un attimo Mi porto l'iPad E faccio Una scappata al volo Allora E neanche sto Neanche a metà di questo sto Quello è bello Allora 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 Vado e torno Questa per me la dobbiamo mettere noi In qualche modo Però come? Sto pensando eh Fatemi pensare One second Aspetta Ok Forse ho capito Però Ok Allora La palla adesso sta lì Quindi Teoricamente Se noi questo Ci muoviamo Andare là Corriamo Dovrebbe andare in automatico E fare così E questo Va bene Ora Il secondo step È Quello Quindi dobbiamo capire Come posizionare Questo In modo tale Che quando va Arriva a lui Senza arrivare a lui Però direttamente Adesso Deve essere una cosa Tipo Temporaneamente Dopo Resta Ah ok Pensavo Stiamo scrivendo Ok Ho capito Se noi Lo Lo mettiamo Tipo Qua E facciamo Così Ok 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 Ci sono Ci sono Ci sono Sono un genio Ci sono Però devo andare fuori Più di io in bagno Cioè oggi è Veramente una cosa No prima finiamo Sto livello Però ci sono Ci sono Ci sono Ho sentito Sono un genio Sono un genio Ho sentito Solo questo Praticamente Allora Allora Ti spiego il mio piano Allora il cubo Ok Il cubo Anche la tua telecamera Ok La telecamera È rientrata È quello Mi stavo risistemando i capelli E arrivo su portal Ok Quindi Ho visto Che faccio i porti La palla Questo deve rimanere qua In modo tale che Se io faccio così Si attiva E va Ok Invece quell'altro Lo fai così O semmeno abbiamo il tempo Col portale Però devi farlo al contrario Ok Che devo fare? Devi fare il portale al contrario Al momento Che portale devo fare? La palla deve finire qua sopra Ok Deve finire qua dentro In modo tale che poi Quando torna indietro Il tempo che noi saliamo Capito? Quindi io dove devo aprire i portali? Allora adesso la palla Allora no Alla palla Adesso Mandala Qui Dentro E falla andare qua giù Qua Ok Ok Nel senso fisicamente La prendo Ce la lancio No 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 Mandala col portale Vabbè se vuoi lanciarla Perché ci arrivi Top Ok Perfetto Adesso 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 Noi dobbiamo essere veloci E tu devi fare un portale Qui Da qui Ok Ok La palla Intanto che sale Noi dobbiamo correre Qui Da Da Dal portale Da qua Qui E qui Ok Perfetto Adesso la palla Sta andando in giù Ora Io posiziono Questo coso Ok Per fare in modo Assetta Tu Che vada dritto Per là Però come Dobbiamo correre Ok Allora Allora Tu intanto stai lì vicino Io mi provarò a correre Sì Ok Corri Corri Dov'è la palla? Sta salendo la palla No È già arrivata la palla No 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 Ok 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 Devo capire come arrivare prima di te Come si fa a correre in questo gioco? Non si può correre Allora Aspetta E se invece li posiziono io quelli da qui? E come facciamo? Tu apri Dimmi la palla quando è giù E questo Ok Ok la palla è giù Ok Vai Eh però devo capire come andare velocemente io Sì giù Però se tu posizioni quello Già si alza Come faccio a posizionare il cubo? Aspetta un attimo giù Eh Aspetta un'idea È il cubo il mio problema adesso? Eh lo so Ho capito Ehm Vai un attimo Lasciami questo a me E metti i portali Tu ce l'ho io Lasciami questi Ok Adesso la palla sta andando su Ok Ora la palla va su Ok Dammi un attimo E ora si è alzato Dobbiamo capire Beh innanzitutto Fa me posizionare questo in modo che ho messo giusto Parte 1 Quindi adesso rimandiamo indietro la palla Perché non va indietro la palla? Perché ho messo male il portale Va malissimo il portale Ok 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 Adesso la palla va affanculo E se faccio in modo che il portale c'è dopo? Aspetta No aspetta È quello che sto facendo È tipo così Adesso la palla è rimasta Tu le aborri No vedi la palla è rimasta lassù Ah Capito Adesso noi andiamo insieme Vieni qua Ok Io vado Il cubo è rimasto Dov'era? Il cubo non ti preoccupare vai E adesso No No Oh 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 top Ok Top Non so cosa ho fatto Ma il ticero è stato comico Ok Adesso il cubo Top No Non top Perché tu sei rimasta giù Ah cazzo E non ho mai detto Non so Mi senti E vieni più giù Vieni più Scendi giù Vieni qui Vai Ok Vai Fallo da qua Eh Togli l'assunto Cazzo Ok Ok Adesso Vieni di qua Ok vai Togli l'assunto Sempre Ok Sempre davanti Stai io Vai Ok Ovviamente Ho lisciato No Sper ho lisciato Che va messo In un punto ben preciso Ecco Sei tipo Crasciata a ballare Ok Scusate Comunque non ho mai capito Come giocate A questo gioco A questo gioco Penso Sei uno dei miei giochi preferiti È bellissimo Guarda Giocatevi portal 1 Giocatevi portal 1 Eppure il 2 È bello A me piace tutto portal Quindi cioè Penso Mia top 10 Di giochi Portal E qualsiasi cosa Della Quantic Dream Cioè se proprio Devo fare Top 10 Dei giochi Trudamente Madonna raga Giulia sto soffrendo Per cosa Che hai combinato Che ho fatto ora E così che è l'ultima No 9 poi Siamo cani Era molto più facile No non è vero Robert mi ha distratto Che cazzo sta dicendo Mi sono Non mi sono Sta usando il rafforzo positivo Nel senso che è Positivamente Positivamente convinta Che non ripareremo Un cazzo E moriremo Ok lì ci sono delle torrette Bellissime torrette E di quelle ce ne occupiamo Subito proprio Questo che sta? Quello è quello Oh no Dobbiamo andare veloci? Probabilmente Giuse Vai dall'altro lato Oh merda Ok Devo andare io Però Qua sopra Qua sopra Allora me lo devi aprire tu Qua E sopra Penso Non lo so Trovo a correre Vado Ok 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 Mi devi aprire i cubi Ok Ok Chiudimili 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 Ok Non è vero Apriimili Ok Ah Ferma No non puoi arrivare Ah Ah si ora si Ok E ora Boh Perché non c'è un po' Aspetta 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 No non lo so Sicuramente devi mandarmi qualcosa qua Sto cercando di capire Sto cercando di capire Probabilmente come Ma lassù devo arrivare da qualche parte Qua Qua C'è Sì Resta sì E come ci arrivo Oh aspetta Aspetta No No Vuoi dispiassi Se ci tieni così tanto No Ah forse da qua Alzami questo Ok C'è qualcosa là però Sì c'è un laser Ah ma è rimasto il tuo portale Già Sì lo so che è rimasto il mio portale Quindi Bisogna trovare un modo Secondo me per farmi passare Tu a me Devo arrivare lassù però io Non travi nessun modo E farmi arrivare di là Aspetta Ok Ok ho messo il mio portale Già Hai visto che ho messo il mio portale? Oh my god Cosa arrivo? Non lo so Io l'ho messo Vieni Nope Oh Alza un po' Aspetta Vai Cazzo E se alzi i cubi? Cioè devi mandare il coso blu e alzare i cubi? Forse facciamoli imbalzare Eh io su non so come tornarci Madonna raga è difficilissimo È complesso E però il problema è che io non so come Ah Io non so come tornare su senza togliere Sì vabbè ciao Mi sono attivata Vabbè aspetta che devo ritornare su quindi Lo toglierei Bevi Bevi Tre volte Grazie No No Mi alzi il cubo No Cazzo No Aspetta Però il rosso è rimasto là Quindi Ho avuto un problema di fondo Questa quanta è la mia testa Ok Sono molto felice Allora Ti metti qua che mi sono finita per sbaglio di qua Sono finita per sbaglio Sono finita per sbaglio Già Arrivo Già Sorry Vado io? Puoi andare te? Vai Prego Vai dentro Là giù No puoi anche non correre Ecco infatti Ok tutto tuo Dimmi quando mi devo spostare con i cubi Spostati con i cubi Vai Aspetta eh Allora così si lancia il coso Quindi no Prova Ma è che sto capendo Però Mi piace molto Là sopra io Devi lanciarlo subito lì Qua Devi lanciarlo il tempo che chiude la porta Non te lo fa fare Sì Io l'ho fatto Vai Bravissima Brava Adesso fallo qui In modo tale che così rimbalza Esatto Rimbalza qua Esatto Ok Così che io ti alzo Col cubo E tu sali su E rimbalzi Ok capito? Vai prova Alza me Cosa è stato? È stato bellissimo No Abbassa Dobbiamo continuare a sparare Sì Più E se spari anche Se ne metti un po' anche qua? In modo tale che così Non mi ricorda a quale devo sparare È l'azzurro Esatto Aspetta Vai Ok Che cosa ha attivato? Ho fatto Un cubo Oh merda Aspetta Si è rovesciato il tubo Allora Devo farlo Se devi aprirne uno qua Rosso Giusto? Rosso Sì Vai Prendilo No Si lancia male Ah aspetta Ah devi togliere il coso Ok Sto andando Eh Eh Ah Devo premere shift Per non mi sbalza più Ok Dove va? Ah Aspetta Ah Aspetta Ok Ce l'ho Eh Ora Come te lo posso? Mettilo in modo che mi tieni abbassato questi cosi Là Perfetto Grazie Allora Allora Ah Ho capito Ho capito Ho capito Tu devi rimbalzare qui Ok E devi fare un portale qui E qui Te Ok Però prima lo dobbiamo rendere veloce Quindi io ti devo mandare Quello Rosso Ho capito Un attimo che non mi si ferma il personaggio Non ti sto a sentire Aspetta Sono troppo confusa Ok Ok Allora Allora Adesso tu Metti il portale Azzurro qui Azzurro o celestino Ok Celestino Ok Perfetto Adesso Fai il portale Blu qui Dici Sì Ok Tu corri veloce E rimbalza Però forse dovresti avere il coso Vabbè Comunque abbiamo trovato il modo per arrivare lassù Adesso il problema è Ok però mi serve il cubo Esatto Come ti porto questo cubo? Aspetta Aspetta che forse ho un'idea Perché quello giallo è ancora il mio No? Mhm Ok Allora aspetta Arrivo io Tieni Ok 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 Rifacciamo da capo Eh Ok Vai Te su Mi devi abbassare il coso Eh Cazzo Aspetta Eh Non so come arrivarci Eh Allora Rimani così Perché devo rimettermi il coso Per uscire da qua sotto Però almeno ti ho dato l'affare Ok Allora Adesso Ok Ok Allora Adesso Io mi metto qua Vai Perfetto Ok Ok E quello Ok con questo No devi ammazzare Devi ammazzare le torrette Non posso ancora Ammazzare le torrette Aspetta però io posso ammazzarle Aspetta io posso ammazzarle No Ora posso ammazzarle Ok poi sposta anche Aspetta me ne manca una Ok Fatto Sposta lì sopra all'attivatore Anche Fatto L'abbiamo fatto Io devo solo tornare Capire come tornare indietro Adesso E poi c'è a dirsi che ha pazzi Io non c'ho un cazzo di qua Devi scendere 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 Scendi E adesso il problema è come Ferma Ferma Così Ok Perfetto Ok Andiamo E' stato più facile del primo Fermate Fermate Come saliamo Ok E' stato risolto più facile Di quanto pensassi Ok Eh la cosa bella è C'era letteralmente La ghiaccia blu per terra Eh si Non ci ho proprio pensato Fermati Come saliamo Però sai È importante che ha detto Oddio Adesso dobbiamo pensare Altre i 300.000 stratagemmi Capito E' stato un momento D'auddio Aiuto Panico Allora Ma che mi per terra Oddio Mamma mia Comunque Salve No ma dai In due ore lo finiamo Lo so Due ore Evviva Ok 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 Questa è letteralmente La fine del gioco Ti spera Due ore Avevamo detto Due ore Lo finiamo tranquillamente E' già due ore Ok Ok già Io non so cosa sto facendo Ma sto rimbalzando Il coso lì Ok Io non so neanche come C'è arrivata lì Con una porta Qui Non so cosa stai facendo Sappito Sto cercando di capirlo Anch'io Sicuramente Dobbiamo portare Il coso lì Il cubo Mh mh Come cazzo ci sono arrivata Io qua A me serve Il blu Però Anche qua C'è un altro Cosa Ok Ok Qua No Ascoltami un attimo Vieni qua Sì Eh ma azioni Giù Ok Poi ritorno indietro Avrei un portale Qui Ti devi spostare Ok 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 Aspetta Non ho sbagliato Dove Rimane Tutto Ok Ok Me ne vado Me ne vado No serve altro Blu Ok Allora io lì ho aperto il portale Blu Quindi qua devo aprire il celeste Vai Faccio una cazzata Raffanculo Aspetta lì tu Celeste Quindi Blu Eh c'ho bisogno un attimo Mi fai uscire di qui Dove devo farti uscire? Dove devo andare? Da qua Mi fai uscire qui Mi fai uscire Mi fai uscire Mi fai uscire Grazie Ok Ok Quindi io devo aprire il celeste Lì E mi devi far partire il Plop 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 Ok Ora aspetta lì Premi il pulsante Quello rosso Per fasci Blu E già lo sto premendo Non mi dico ho aperto quello sbagliato Come una rincoglionita Eh no Sei uscita dalla porta Ho aperto quello sbagliato No Era già fuori dalla porta Eh no No c'è ragione No ma c'è una porta qua Gio Guarda Aspetta Come cazzo esco da qua Fermi tutti Allora Aspetta Ti faccio vedere C'è una porta qui Qua Qui C'è una porta che gira Eh lo so Però stavo cerca Deve far arrivare Il blu per terra Eh però il problema È Oh Eh Ok No niente Me la porti Un lag Del risco Dobbiamo capire come fare No ma Aspetta No giusto Ho sbagliato io prima Seguimi un attimo Vabbè io ritorno là Allora Sì Ritorno un attimo Però aspetteremo E devi far uscire Da qua Cazzo sai Sì Fammi uscire da qui Oddio Ho fatto un casino Dove sei? Qua? Eh sì Grazie Au Ok Ok Io gli ho buttato Il celeste E allora Giù Però tu devi rimanere là Cioè devi rimanere qua dentro Capito? Tu devi rimanere qua Ci devo pensare io Perché sennò i tuoi portali Vanno a fanculo Capito? Aspetta però Come faccio? No No Aspetta Aspetta Eh no Prima mi devi far Andare di qua A mezzo Dove? Prima mi devi far Venire da te Ok Vieni Apri Ok Perfetto Ok E tu devi Ah falo Eh ecco Perfetto Ok E questo l'avevo fatto Tu adesso devi uscire Ok E adesso faccio Qui sopra Guardami Là sopra Eh però il problema è che si No Cazzo Giulia Merda No è spesso pensando Se entro qua Come faccio A farla andare Là Infatti lì devi farlo Il portale Intanto Dove? E sali Aiuto Che panico Ma come fate a capirci Come si sta scippando la testa È perché In mezzo Mi ha fatto un sacco Sto tipo di giochi Sì Esatto Allora 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 Intanto dobbiamo ritornare indietro Ok Intanto Parte 1 Ok Vai Ritorna qua Io ti faccio il portale Aspetta Ti faccio il portale Dall'altra parte Ok Perfetto Ok Poi tu devi tornare qua dentro Eh mi devi fare entrare Qui dentro Vai Devo sparare il celestino Ok Vai Vado Allora Adesso Io devo fare Giallo Giorgia Pensavo Giulia Fosse meglio Io no L'unica meglio A sto gioco So io Basta Infatti Lo giuro Finisco cult E porto questo Tutto il 2 Porta l'1 E porta il 2 Ok Sono su Che c'è su? Tante porte Tante belle porte Giulia più che altro È più collaborativa Non cerca Intenzionalmente Di uccidermi No Anche perché È veramente difficile Sto cosa La differenza Tra le Sara È che Sara Cerca intenzionalmente Di uccidermi Giulia non lo fa apposta No Sì C'è anche una campagna Single player Che non c'entra un cazzo Con quello che stiamo facendo Adesso Letteralmente Non sto capendo Non penso Che lì per adesso Ci serve Come cazzo Ci deve arrivare Là C'è uno Allora salgo su Qua Che devo fare Allora Io che faccio Con sto coso Ah Libero Scusa un attimo Libero la porta Qua Scusami un attimo E se lo spari Tu lì Qui No Scusa No Sparalo sotto E E Non ho capito Dove lo devo sparare Che lì c'è una fessura Dove tu puoi sparare Però Sta fuori Provo a saltare Sul cubo È quello che sta cercando Di fare Giulia Ma scusa Tu dal lato Da sopra Dove c'è la freccia Sali verso l'alto Non puoi salire No il cubo No il cubo È tutto Plastificato E come Che tu lo prendi Non lo so Non ho capito Io sto guardando Sali sul muretto Fa niente No già bevi Sto bevendo Ok Vuoi provare a farmela finire Non so se Non so se questo è il suo obiettivo Vabbè è il numero 9 Quindi Assenso Ma se te lo tengo girato Succederà qualcosa Secondo te Perché quello che pensavo io È di ricoprirlo Di coso Blu Fermi tutti Fermi Forse ho capito No Non ho capito No Però perché qua Io lo posso fare No Su questo che faccio Quindi Eh passi Vedi Hai tolto la porta Ok 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 La porta è qui Cioè Almeno Dovremmo farci Arrivare qualcosa Almeno il nono episodio Dobbiamo finirlo Cazzo Cioè il nono livello Cazzo No no Non mi prega niente Lo finiamo Cioè Sento ragione Io Mi conosci Come l'ho fatta Giù Mi apri Per favore I portali Quella che avevo Aperto io Ok Beh uno qua E un qua Ok Aspettate Allora quindi Uno qua Eh no Devi rientrare dentro E arriva tutto L'ambaradam Devi fare Mi serve che qua Continua a scendere Lo devo fare io L'ambaradam Sì Però mi devi aprire Allora Sì Vai Ah Sei? Vai Sì Voi non potete vedere Quello che ho fatto Mi dispiace Per voi Mi dispiace tanto Per voi Che non avete potuto Vedere quello che ho fatto Come hai fatto? Eh Semplicemente C'era il gel blu Sopra La porta È a metà E non è intera E quindi Ci sta rimbalzando ovunque Bene Adesso Dovrebbe uscire Facilmente Da lì No è che Il coso è sporco di gel Quindi rimbalza una cifra Prendilo Dov'è? Là Prendilo Vieni Ok 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 Giulia puoi uscire? Come cazzo hai fatto? Qua te lo spiego Allora Vai lì Vai sopra Vieni Vai qui E attiva Il coso Devo attivare Quello lì dove possiamo Vai qui Ok aspetta E attiva quello Per togliere la porta Che palle Non riesco a saltare dritta Aspetta arrivo Comunque Vedi che qui la porta Non è tutta E infatti allora Se piva quello Ok top Vai prego Ok Emo Ah perché non si è lavato Però questo Ah Ok Ok Ah vieni qua Passami 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 Poi ci dovrebbe essere Per lavare Vedi C'è Ah no Là dentro Dobbiamo farlo andare Addio State Bono Aspetta Dobbiamo farlo andare dentro Ma senza passare E come facciamo? Ma dici che è dentro? E sta dentro È quella cosa Quel cubo lì Quel tubo là Ma come facciamo? Allora Aspettami Un attimo Ah no Aspetta Che mi giro Almeno così Ti vedo Che fai le cose Ah ok Ce l'è Di qua Allora Ok Aspetta Capito Rimani lì Non ti muovere Aspetta mamma Liscio Lava il cubo Lava il cubo E come ci arrivo Allora Aspettami Allora Aspetta 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 Qua Devi fare un portare lì Esatto No Vai Eh ma Aspetta Aspetta Vado un po' più avanti Aspetta Ok Il cubo è lavato Lavato Ok Allora Adesso lo posizioni Qua Adesso lo possiamo posizionare Quello si abbassa Ok E ora? Ah Dobbiamo saltare Dobbiamo saltare Vieni qua Vieni qui Ok Ok Quasi Manca poco Che manca? Che c'è? Qua però c'è un cubo qui Eh è quello che stavo vedendo Ok Questo cosa fa? In realtà è quello per aprire Allora Allora Aspetta Dobbiamo rifare da capo quello che stavamo facendo prima Praticamente Devo saltare Ok Per saltare Quindi Riva di là E Lì il brutto Vai lì alla parte brutta E io vado Aspetta Però ti devo far passare prima Sì Quindi E di qua E di qua Come complicarsi la vita a parte 1000 Ci sei? Ok Quindi di qua E salgo Quindi devo posizionare il blu Teoricamente io posso Ah no Non posso scendere Stai facendo tipo ovunque Che cazzo stai facendo? Sì Ma è io abbondare che deficere Ciao Leo Grazie che sei passato Ciao Leo Io sono deficiente Che hai fatto? Non lo so Posso venire? Dammi un secondo Aspetta un secondo E ti dico se puoi venire Perché devo ancora capire bene Che cazzo Stiamo facendo E infatti no Allora Perché questo ci serve Basta Io rimango qua Aspetta lì Metti il tab Così almeno vedono Che sto facendo Tab Eh Questo Ok Posso lasciarlo premuto In modo tale Che così Posso andare un secondo No Aspetta eh No No Non riesci a mettere qualcosa Che tiene premuto Eh esatto Volevo tenere il tab Ora mi si è rotto il tab Ah no Questo è il tab Ora non si guarda Quale è il tab Ok No Cazzo Ok 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 Vado One second Secondo in bagno Arrivo Potete vedere il mio schermo Nel latino Fanculo Ho sbagliato Ho sbagliato Io ho rotto Il cazzo Sì Il cazzo L'ho rotto Sicuro Eh no Raffanculo Oltre Prima Prima l'ho fatto Senza problemi Forse è più facile Di quanto non sembra No Ah oh Ah oh Sto cercando di Di capire Non ti devi lanciare E poi saltare Non Non so Prova a riveni te Non so se i portali Ok Sto cercando di capire Quei portali Arrivo No aspetta Mi si attivato Mi si attivato il coso Aspetta Evviva Ah stai lasciando letteralmente Il tab premuto Così vedono quello che faccio io Stavo provando a farlo Allora Per me Allora Questo No aspetta Me ne apri No Speri Abbassa quello Mi serve che me ne apri Uno qui E uno qui No aspetta Non è vero Esatto Brava Così mi serve No Lo devo mettere qui però Esatto No tu devi venire qua vicino a me Mi sa Faffanculo Devo entrare nel blu Devo farlo più vicino Ma non puoi semplicemente rimbalzare e basta No No Così Guarda Posso tanto rimangono là Dove cazzo sono andata? Sto cercando di andare di qua Se una di noi va di qua Penso Sto cercando di andare dall'altro lato io Io ora c'ero riuscita letteralmente solo rimbalzando Non capisco Oh ci sono riuscita Ok Ferma lì Che devo fare? Adesso ti metto questo qua Tu lì non puoi attraversare niente Non puoi fare nulla? Qua c'è una porta Una porta che ti dà dove? E' qua Due cose Una che sta qua sotto E una che sta qua Dai Basta 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 Non c'è niente Ok Solo quello per pulire Sì Sì Mi sta friggendo il cervello Allora Con l'acqua ci possiamo fare qualcosa Mi togli questo blu per favore? Grazie No 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 Allora Ok No 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 Forse dobbiamo prendere tipo la rincorsa Non sto capendo Da prima che provo a lanciarmi in tutte le maniere Sì Siamo sulla rugginite Siamo sulla rugginite Ti assicuro che non siamo a rugginite Sa E' veramente Difficile Ciao Perché c'è sta? Ciao No Sta sopra al coso Su whatsapp Ha scritto Siamo sulla rugginite Ah ok No Cioè letteralmente no No Più vicino Allora Mi stoppi sto coso Scusa Il volo Che ti devo sto fare? La linea Vedi Che linea? Ah si Il volo Devo pensare E' letteralmente quello che ho fatto Ok Oh che cazzo No Allora Estimamente confuso Ok 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 Ora No 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 Però ci deve essere un modo Cioè Perché questo sta qua? Io so Sono letteralmente go Stavo facendo Però non possiamo fare una live Poi No Facciamo solo l'ultima parte Quindi A meno che Ok Ok Forse Se mi lancio così Non so come ho fatto Ma ho capito Allora 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 Ok Allora 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 Ok Ok Dovevo scendere e salire? Non lo so Io sto andando Dove dobbiamo andare? Di qua? Aspetta No Ah là sopra Là sopra Già Qua sopra Aspetta Ci sono? Aiuto Giulia ma mi hai chiuso prima che passassi Vai prego Vai Puoi arrivare da qualche parte? Non so se ho sparato il portale Vai prova No Blu Devi fare blu Ok No Ah cazzo Regà a me mi riesco a sparare via È un problema questo Vai L'ho aperto? Non lo so Aspetta Controllo Però ho sparato Mentre scendiamo No è laggiù è troppo lontano Aspetta Possiamo fare da qua Aspetta Qua Ok Ok E poi qua Possiamo fare Che cazzo ci arriviamo lassù Secondo Qua Ok E già vieni qui Vieni qui Vieni Ok Saliamo Vieni Eh no Aspetta Ah possiamo scendere da qua sotto Aspetta Vieni Vieni eh Oddio qual'era il giallo? Ok Ok Ma serve di quale non si è illuminato Vieni Ok Allora Adesso da qua Dobbiamo capire come arriva No però non è così Perché No Però siamo saliti qua su Quindi in qualche modo Dobbiamo arrivare lì No perché Scusa Noi iniziamo portal 2 No Ah tu dici la storia Sì scusami Scusa Sono diventata Nicola Scusatemi Stavo dicendo Perché quando inizia portal 2 Glados è smontata Quindi non può essere No Lei l'ha riattivata A un certo punto Noi siamo Quando lei l'ha riattivata Per me Dici O forse lei faceva apposta Essere smontata Non lo so O magari la smontiamo noi adesso No Non so come Deve esserci un modo Che dobbiamo fare un salto Della madonna Che cazzo facciamo Ah ho capito Ho capito Ho capito Allora Mi devi Scendere No È qua che dobbiamo mettere Il portale Qua Su questo muro Ok Però devo capire come Aspettami Come fai? E poi come ti ci porto? Ah devi rivenire qua Ok Perfetto Ok Sì e io lo apro E Aspetta che ti porto qua Vieni qua da me Vai Ok E adesso avremo il blu qua sotto Ok esatto E ci lanciamo Vai Ok Bello Oddio delle volte Ti parla tipo Su Oddio Oddio Ok Andiamo un po' Vabbè dai In due ore L'abbiamo finito Più o meno Dai Oddio C'ho l'ansia Oddio per me Per me È una grande cazzata Ci stava prendendo Per il culo Vuò essere Ci vuole solo Spercicare In maniera Sì Colossale Colossale